Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio presentare gli ultimi due manuali di Sine Requie usciti che sono da questa parte il manuale viola Inquisizione, il manuale dell'Inquisizione e da quest'altra parte il Tomo dei Morti nella sua interezza ed è praticamente un manuale che già precedentemente era uscito diviso in due parti se vi ricordate il Tomo dei Morti 1 e il Tomo dei Morti 2 zombie più tutte le creature strane che infestano l'ambientazione di Sine Requie e l'hanno raggruppati in un unico volume bello grande come potete vedere da qui, tra l'altro veramente spettacolari così da averli tutte e due in un unico volume in questa nuova edizione e da quest'altra parte invece il manuale legato al Santo Imperium che parla di vita, morte e miracoli e tutto quello che c'è da sapere sull'Inquisizione nuove regole di gioco, generatore automatico di avventure che è una cosa veramente una bella trovata molto carina e lo sapete come sempre, ancora una volta vi porto sul canale quello che non mi sono mai nascosto essere il mio gioco di ruolo in assoluto preferito da 17-18 anni a dire poco ve ne parlo a breve dopo la sigla Sine Requie che è nato più o meno come gioco la prima volta che è uscito della Rosa in Poison intorno al 2002-2003 qualcosa del genere nella sua primissima edizione è stato poi dopo rivisto quando la Serpentarium ha iniziato a fare non soltanto più da produttore del gioco perché loro, il Kurt e il Moro, ma anche da editori e quindi ora tutti quanti i manuali sono direttamente della Serpentarium se le suonano e se le cantano è un gioco di ruolo, come vi ho già fatto un video che vi lascio come nota potete andarlo a vedere ambientato in una versione, in una visione alternativa della Seconda Guerra Mondiale o per meglio dire a fine Seconda Guerra Mondiale durante lo sbarco a Normandia Operazione Overlord nel 1944 i morti si sono rialzati quindi lo sbarco è fallito le truppe alleate, non solo gli americani hanno perso la guerra e per quanto la guerra non l'abbia vinta nessuno perché non l'ha vinta nessuno la Germania si è arrogata il diritto di dire noi siamo i vincitori della Seconda Guerra Mondiale per quanto poi i morti non guardano in faccia a nessuno quindi nessun popolo e nessuna nazione ha vinto la Seconda Guerra Mondiale però loro si sentono i vincitori e da una parte più o meno sembrano quelli che ne sono usciti un po' meglio in questi due ultimi manuali usciti c'è il manuale dell'Inquisizione che è un pezzo secondo me che mancava da morire collegato a una delle ambientazioni delle principali ambientazioni di Sienereque che è il Sanctum Imperium la Nuova Italia tornata in una specie di Medioevo alternativo dove la Chiesa e il Papato ovviamente comandano su tutta quanta la nazione e è tornata l'Inquisizione come sono tornati anche i Cavaliari Templari che già in un altro video avevo fatto vedere appunto il manuale che era uscito di Cacciatori di Morti bellissimo forse il mio preferito e il manuale dei Templari questa volta invece si parla direttamente dell'Inquisizione e in questo manuale non soltanto ci viene descritta tutta l'Inquisizione i personaggi principali NPC da Zainer nell'avventure ma ci viene data la possibilità di interpretare o un Inquisitore o un Novello Inquisitore oppure anche degli Excubitores che sono tipo la polizia di questo nuovo regno diciamo così questo nuovo regno d'Italia che poi si chiama il Sanctum Imperium oppure la possibilità di giocare anche dei conversi o dei secretari che seguono gli Inquisitori e sono quelli che prendono nota di tutto quello che fa l'Inquisitore delle corpe degli eretici di chi viene messa in rogo insomma di tutto quello che fa la banda il gruppo che segue l'Inquisitore e dentro questo manuale a parte regole nuove abilità nuove ve l'ho detto classi nuove c'è la possibilità anche di avere un generatore automatico di avventure con un semplice mi veniva da dire tiro di dado stavo qui sbagliato perché si riede qui si gioca solo con le carte però ci viene data la possibilità di scegliere su delle tabelle casualmente la nostra avventura quello che ci capiterà ovviamente avventure sempre collegate all'Inquisizione quindi la tabella il generatore si lo potete usare un po' ovunque però quel generatore d'avventure randomiche è fatto più che altro se giocherete personaggi che faranno da seguito a un Inquisitore del Santo Imperium o se sarete voi a ricoprire tale carica ed è un manuale bellissimo al solito con delle illustrazioni dentro da paura che non vi può mancare per niente il secondo manuale invece vedete ho il segnalibro perché io me li spulcio tutti me li leggo veramente per qualsiasi cosa scrivono e dopo alla fine vi dico il perché il secondo manuale è quello il grande tomo dei morti e nel grande tomo dei morti ci sono il volume dei morti numero uno e il volume dei morti numero due che si potevano si possono anche comprare ancora separatamente ma qui sono riuniti in un unico manuale e c'è di tutto dall'A alla Z tutti i tipi di morti i simplex che sono i classici zombie alla Walking Dead non lo dico perché qui sono più romeriani comunque che vanno a giro camminano senza coscienza se c'è una buca ci si buttano dentro poi ci sono quelli inconsci che non sanno di essere morti ci sono i Ferox che sono tipo delle bestie velocissime che ti strappano la carne ci sono quelli che non soltanto sono i classici morti simplex ma leggermente più intelligenti tra virgolette e addirittura riescono anche a prendere delle armi o tipo se trovano un mitra capace prendono un mitra e ti sparano addosso quindi ci sono vari tipi di morti in un'ambientazione che è veramente spettacolare e ovviamente da varietà l'ambientazione anche perché se no sembrerebbe di giocare al vecchio Girsa il signore degli anelli dove gli unici nemici erano goblin e orchi e narsgull ogni tanto quindi uno poi dopo un po' si stanca e ci sono svariati tipi di zombie che vi potete divertire ma non soltanto perché in questa ambientazione c'è qualcosa di particolare che loro e gli autori non ci sveleranno mai ma c'è qualcosa di particolare sicuramente collegato a un altro mondo che non vi voglio spoilerare niente che viaggia in perpendicolare con questo con il nostro e tanto leggende manuale lo capirete e sembra che tutto quanto sia stato originato da quest'altro mondo o dimensione parallela alla nostra e che una delle cose che sono entrate nel nostro mondo da quest'altro sono i morti gli zombie però sono veramente la punta dell'iceberg sono dunque due manuali per me da avere assolutamente quando fanno dei manuali vanno sempre comprati perché io come vi ho sempre detto la cosa che mi piace da morire di sinerequie a parte che è un'ambientazione nostra italiana ambientato nato vabbè come idea nel Santo Imperium però poi riprende il quarto Reich il Soviet addirittura le terre di Osiride perché si sono risvegliati anche i faraoni dell'Egitto in Giappone tutte le leggende siamo tutti i demoni leggende cose del genere siamo ritornati più o meno all'età d'oro dei samurai nel periodo Edo come c'era anche un pochino da immaginarsi terre selvagge l'America quindi è un'ambientazione che prende tutto quanto al nostro mondo anche di facile comprensione perché poi siamo nel 56-57 l'ambientazione è quella nostra fondamentalmente giocata in Italia potreste dire vado ad Arezzo vado a Pisa visito la città di Livorno cioè un'ambientazione che conosciamo quindi non c'è tanto da indagare da leggere da impazzire ma quello che io adoro di sinerequie che mi è sempre piaciuto voi comprate un manuale vi prendo questo qui ad esempio d'ambientazione di nuove regole ci sono la bellezza di 130 pagine di cui 10 pagine esagerando parlando di regole e tutto tutto il resto è ambientazione ma è come l'ambientazione ci viene posta e raccontata che a me piace veramente da morire perché viene sempre vista dagli occhi in prima persona di questi protagonisti di questo mondo che scrivono delle specie di lettere quindi un po' come se fosse una corrispondenza perché a me piace però a volte allo stesso tempo odio o mi risulta un pochino scomodo leggere manuali dove ci sono 50 pagine di ambientazione e ti descrive la fontana del paese il drago sulla fontana del paese la chiesa del paese il santo venerato nella chiesa del paese come è fatto di che marmo è stato fatto ad esempio la facciata dell'abbazia di come è fatta la piazza di come è facendo sono troppe informazioni che si servono a darti l'idea chiara di dove fare muovere i tuoi giocatori però sono troppe cose da tenere a mente e in un gioco di ruolo te mi devi dare più o meno un'idea di dove mi trovo e poi tutto il resto lo creo io tanto siamo sinceri è il dungeon master che crea l'ambientazione e te mi puoi anche creare un mondo alternativo come ti pare a te ma tanto nessuno lo userà oppure lo adatteranno secondo le loro esigenze lo abbiamo fatto tutti e lo facciamo sempre quindi fondamentalmente è inutile che ti vada a descrivere 20 pagine di come è fatta la Toscana 20 pagine di ambientazione quando invece è più bello leggere questo tipo di lettere dal fronte di questo gruppo che si è trovata a combattere contro i morti in quel paesino lì e infatti nel manuale dell'inquisizione ma soprattutto nel grande tomo dei morti è bello che voi vi aspettate che gli zombie vari tipi di zombie vengono descritti con delle tabelle e tutto quanto sì c'è una pagina delle caratteristiche ma tutto il resto sono racconti e disegni di gente che li ha affrontati e che ci si è trovata ovviamente faccia a faccia quindi ti viene narrato come un romanzo non è un manuale di regole che te le descrivi per filo e per segno quanto sono alti come sono fatti niente ti vengono questo è un libro di ambientazione sono racconti che si susseguono uno dopo l'altro che ti spiegano tutta l'ambientazione proprio come se tu stessi leggendo un romanzo ed è una cosa bellissima che riesce a farmi entrare le cose in testa dieci volte di più che leggere l'ambientazione di un qualsiasi altro gioco quindi in conclusione io ringrazio curte e moro per avermi offerto questi manuali per la recensione e ragazzi vi lascio il link in descrizione primo link dove acquistali direttamente sul sito della serpentarium e se amate l'ambientazione di Sine Requie non vi devono mancare e visto che tante persone me l'hanno chiesto e lo sto per portare anche in live se a qualcuno di voi piace l'ambientazione con gli zombie post apocalittica e cercate un gioco di zombie lasciate stare e io ho tutta la serie tutta sono amante però lasciate stare bischerate tipo The Walking Dead dove lo zombie pugnalato nella schiena muore o pugnalato vi sotto muore che non si sa come ha fatto a prendere il cervello qui non ci sono cavolate qui lo zombie non può morire perché è già morto quindi se gli staccate la testa le braccia le gambe come in diversi film di Romero non si fermerà ed è una cosa bellissima perché secondo me dà veramente una spinta in più al lato survival di un gioco veramente 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 cattivo dove non si nascondono cose tipo razzismo come discriminazioni come Parolacce come Bestemmie Velate infatti è un gioco sicuramente non per persone impressionabili però è un gioco veramente spettacolare io vi sfido a trovare un'ambientazione più curata più geniale più macabra di questa qui e l'adoro quindi primo link è in descrizione e fatemi sapere cosa ne pensate ciao ragazzi alla prossima